Salve a tutti in questo video vediamo come tagliare, copiare e incollare file cartelle su Windows 11 Diciamo che è simile a Windows 10 ma ci sono stati dei piccoli cambiamenti Vediamo subito di cosa sto parlando Proviamo a fare tasto destro su un file E vediamo che qui è sparito taglia, copia e incolla Perché? Perché sono apparsi qui come icona Tecnicamente dovrebbe essere più facile In pratica però potrebbe confondere alcuni Allora vediamo che questo è il nuovo taglia e questo è il nuovo copia Se vogliamo vedere invece la scritta come vedevamo con Windows 10 Dobbiamo cliccare su mostra altre opzioni Ed ecco qua taglia e copia Quindi andiamo a fare tasto destro copia ad esempio Entriamo in una cartella Tasto destro Ed ecco che adesso appare l'incolla che è questo qui Anche qui se facciamo mostra altre opzioni Possiamo cliccare su incolla E il file verrà incollato all'interno della cartella Quindi piccoli cambiamenti È una cosa migliore rispetto a Windows 10? Tecnicamente sì perché come potete vedere è veloce È fatto in modo da risparmiare tempo Le icone stanno subito subito qui Laddove usiamo il clic con il tasto destro Quindi questione di abitudine Comunque se volete potete continuare ad usare l'altro menu Spero di essere stato utile Un saluto Un saluto Un saluto